Amici Youtube, bambino da c'è Ragazzi era il terzo episodio L'ultimo che ho caricato Quindi questo è il quarto Ho messo il quinto episodio Sbagliando ragazzi Allora continuiamo con il quarto episodio Abbiamo giocato la partita con il PSG Andiamo avanti Juve Bologna ragazzi Tiago Motta comunque Farò un video, sarà il prossimo allenatore Dalla Juventus Ma intanto ci godiamo Riccardo e Michele All'allenatore della Juventus E poi magari ragazzi Lasciamo Spazio a Tiago Motta Ragazzi c'è Perlegrini ancora fuori Questo è un problema Siamo Bellingham Andiamo proprio alla partita Col PSG Vince col Bologna Vince Udine Vince col Verona PSG Partita di ritorno Eh gioca Paredes Gioca Sole Gioca Spinazzola ragazzi Finalmente Riccardi può giocare Prima punta Cambia un po' tutta la Juve Onoscenzi Mancini Brever Spinazzola Giorente Bellingham Paredes Solè Vlaovic Riccardi Riccardi Deve fare anche un po' di turno Per Bellingham Martinelli De palla Luisa Alberto Poi Mbappé Mancini Si gira Ventus che è il vantaggio 2-1 Occhio Gavi Mbappé La guerra Occhio La prova è la capitano Mucchi e l'epala Per Marchinhos C'è il Sargente Paredes Ex tra l'altro Osman 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 Gavi Gavi Scesni Artinelli Occhio in mezzo Scesni Due parate Importantissime Osman Dembele Luz Alberto Paredes Bellingham Partinelli Lucas Hernandez Occhio Prova a tagliare Bancini Bremer Due Difensivo Assurdo Bellingham Lovic Prova a tagliare La perra Riccardi Gran taglio Prova Riccardi Donnarummo Gran parata Qua Riccardi Arrabbiato Prima partita Che gioco Da titolare Alla sinistra Gavi Sbaglia Leandro Paredes Occhio Bappé Bappé Scesni Sole Gran palla di Sole Che poi la dà per Achimi Mamma mia Sole Poi Achimi 1-0-2 Achimi Achimi E butta fuori il Paris Il Paris Social Man Vabbé Bappé 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 Achimi 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 Souley Fuori Cardi Vincari Arrabbiato Sta vedendo Un'ottima Juve Passerà ai quarti Di finale Martina 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 Lì Salberto Mamma mia Bremer Ragazzi Bappé 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 Paredes 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 Ho preparato bene Riccardo 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 La partita C'è il gol del PSG Un Gabi Un Gabi Ragazzi L'Aventus Basta Ma c'è il munizione Paredes Sto un scalcio d'angolo Riccardo Riccardo Sì E anche il capitano Segna 3 a 1 Vuole proprio Il Paris Saint Germain 5 a 2 Passa la Juve Vediamo chi passa Ragazzi Ai quarti Passano Juve Real Madrid Liverpool Napoli Pazzesco City Il Napoli E a Juventus E ai quarti Stombina Marsia Da gioco Barcellona Juventus E Napoli E ai quarti Rinato il Napoli Ragazzi Milan Roma Roma Liverpool Liverpool Ragazzi Ah Col Milan Perda Rimane prima A pari punti col Milan Assurdo Napoli terzo Tutte lì appagliate ragazzi Io ho il Liverpool l'andata Eh ragazzi il Liverpool Comunque la bella squadra Darwin E Callister Endo Ragazzi Juventus Ha eliminato La bella squadra Stones Endo Bremer Mancini Ildiz Van Dyke Bravo Mendes Endo Mancini Callister Darwin Nunez Endo Endo Ildiz Lovic Bendesh Liverpool Mi sta proteggendo molto bene Darwin Graver Mamma mia Bremer Ragazzi Giottore Assurdo Christensen Graver Butch In questo momento però Darwin Darwin E la spara lui fuori Passato un dipensore come Bremer Ben ligamento E Liverpool comunque bello forte Schesni Schesni Signor portiere della Champions Champions Bella tagliata per chiesa Blauvic Mamma mia Dusan Blauvic Mazzara Blauvic Blauvic Callister Graver Barch Pensione perché Cairo Vorrebbe Riccardo e Michele Nella Juventus Alla Toro Per la prossima stagione Quindi Non cambierà di molto città Bellingham E' il tizio Fa 2 a 0 Io Ah ragazzi è ancora una bella Io Love you Il tizio Graver Barch Ma ci sarebbe anche Il Real Madrid Su Riccardo e Michele L'ha avuto per tanti anni In dirigenza Di 7 minuti Schesni Amparate di Schesni 2 a 0 Della Juva Ritorno Oh Mancini Schesni Sdias Chiesa Il Il tizio Mamma mia Che partita Berardi Berardi Bellingham Five low Un clude fuori Juve 2 Liverpool 0 Una bella Juve Fino a qui Occhio perché punta Berardi Vlaovic 3 a 0 Pietro di Dusan Vlaovic Vlaovic Il tizio Vlaovic Bellingham Berardi Eh ragazzi Il Liverpool Non può passare Ma perché Juve In questo momento È la rosa Più forte No Andes Di testa Schesni Endo Salà Salà Schesni Sì Le parla tutte Schesni Chiesa Bellingham Scusa Bellingham Il pallone Più profondo Vlaovic Darwin Darwin Ha due errori Darwin Nunez Attenzione Uh Darwin La tiene Mi ha ragazzi Darwin Nunez Indiz Chiesa Fuori Fuori gioco Dunque Già Esce il primo tempo La Juve Vince 3 a 0 1 a 0 Del Barça Barcellà Cercherebbe Un allenatore Per la prossima Stagione Potrebbe essere Proprio Riccardo Di Michele Indiz Mamma mia Che taglio Per Chiesa 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 Alisson Calcio d'angolo Facendo una grandissima parata Bellingham Darwin Luiz Dias Luiz Dias Oh Che gol Momo Salah Eh ci sta un Quali Liverpool Abbiamo fatto Un gol Staverebbe Liverpool Chiesa 4 a 1 Che partita Di Federico Chiesa Eh ragazzi Juventus 4 a 3 Mannaggia Eh sarà Sarà Un bel ritorno Ragazzi Sarà Un bel ritorno Mon Telukman Allora ragazzi gioca Unai Simon Vediamo perché si gioca Ad Anfield Però ragazzi A Juventus In questo momento Superiore a Liverpool Vediamo se vorrebbe Ritornare in semifinale dopo Sei anni All'2019 Dopo cinque anni La vesce Subito a Liverpool Attenzione perché Darwin Darwin Uniaz Unai Simon Prima partita È giocato a titolare Unai Sempre giocato a Szczesny Spinazzola Occhio Provella Capitano Bremer Riccardi oggi Gioca tutto avanti Chiesa Chiesa Su assist di Riccardi Che non si è neanche buttato a terra Grazie A Juventus Cerca La Semifinale Loic Spinazzola Riccardo 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 La sua semifinale europea Da calciatore È molto importante Occhio però Al sessantesimo Darwin Darwin 1-1 Attenzione a Liverpool Stavolta Stavolta Darwin Attenzione Meno un gol Per andare a supplementare In meno due Per passare Bellingham Lukman Attenzione a Liverpool Siamo al 72esimo Liverpool Con un gol Si sente Aspetta Le tifosi Yanfield Bremer Bremer Di Bravo Bremer Migliore Unai Salah E' la Juve Va in semifinale Cardi Giuseppe Vuole alzare la Champions Ragazzi Per lui Alzare la Champions Con questa Maia Allora passano Juve E Barcellona C'è 0-0 Napoli Bayer E 2-1 Tra Real E Marsiglia Como Barcellona Presa Il Barcellona Ragazzi Beh ragazzi Io è Barcellona Io è Andare in finale Lewandowski Pedri Potrebbe essere La squadra Di Riccardo Di Riccardo Di Riccardo Di Riccardo Il prossimo anno Di Barcellona Io penso Che Riccardo Di Riccardo Io lo voglio Tenere Il Diz Il Diz Il Diz 1-0 Beh diciamo Riccardo Riccardo Ha imparato Tanto Da Guardiola Ha avuto La Barsa Stato Stato poi Il suo vice Andare Alla Bayern Monaco E poi Al Manchester City Stato Lo staff Tanti anni Di Guardiola Romero Lewandowski Lewandowski Fallo Bellingham Bella Ildiz Per Avlaovic Occhio E non è stato Dato niente Si lamentano Il tifosi A Juve Occhio Alla Barsa Oh Riccardo Giuseppe Comunque In fase Difensiva Bravo Romeo Riccardo Il migliore Ho il gusto Ho segnato Riccardo Che Non ha segnato Tantissimo Però Stato Il capitano Della squadra Bravo Pedrini A recupero E Young 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 Altro Barcellona Proprio Campione D'Europa Bellingham Busto Scio D'angolo Indiz Chiesa Come contro Liverpool Anche contro Il Barça 2-0 Per la Juve 2-0 Barcellona Berardi Ter Stagan Occhio Bellingham 3-0 Cino 3-0 Io Cino Praticamente Ragazzi Il Diz Le Giong è stato bravo Occhio lunga La figna Mamma mia Mancini Che partita Taglia Berardi Berardi Mamma mia Comunque il Barca Sta cavando più che bene A chi è? Berardi Marcos Marcos Chiesa Chiesa Gusto Eh attenzione Rafinha Rafinha Mamma mia Rafinha Mancini Che partita di Mancini ragazzi Bella per Vlaovic Vlaovic Il Diz Il Barcellona Tiene bene però Bella squadra Il Barca E poi Mamma mia Scesni Strepitoso Oh Scesni Scesni Con Riccardi Il Diz Araujo Grande partita Ovunque Della Levanto Schies Problemi Per Conde Scesni Vediamo Rientra Ventus 2-0 Sulla Barcellona Barcellona E comunque Io In questo momento Vlaovic 3-0 Icardi Vlaovic E io E Ha già messo Un tassello Importante Sulla finale Sarà tosta Per i campieri D'Europa Scesni Bellingham C'è spazio Ma c'è Scesni C'è Io E Affondare Ildiz Gusto Gusto Raffinia Eh Va bene Va bene Raffinia Fa 3-1 4-2 Ragazzi Sumuliamo Il ritorno Le due ultime Napoli E Cremonese Vince con la Samp Real 1-0 Sul Bayern Juventus Dovrebbe Andare Dovrebbe vincere il campionato Raffinia I Dovrebbe Dai, Juventus ha 3 gol di scarto La Juve è un Barca che vuole avere puntata al Camp Nou Eh, comunque la Juve che in finale avrebbe il Bayern o il Real Madrid Una delle due Eh, non è comodo né una né l'altra Vediamo se Riccardo Micale rimane Con la Juve Oh, spazio attiva comotta Oh, Vlauvić Siamo già praticamente nel secondo tempo Marcella è in attacco Ma ragazzi Aiuto, non ha più niente da dire Tra l'altro, aiuto Ragazzi, non ha mai perso Dagli ottavi in poi La squadra di Riccati mi chiede La squadra che Ha perso meno volte In Champions League Occhio al capitano ci prova Chiede scusa Petri Unai Cimonna E la Juve in finale Finale per la Juve Due ex compagni Ragazzi, Riccati di Michele porta la Juve in finale Assurdo Riccati di Giuseppe è contento Perché ha ottenuto la prima finale con la Juve Ma mi ha preso tutto Unai Cimonna Ragazzi, finiamo qua questo Terzo episodio Ci vediamo per il quarto Ci vediamo per il quarto Pront metabol物 per la Juve in Schrede Dopo E con la Juve in finale con la Juve in finale con la Juve in Paola in finale con la Juve in Venezia pro